Il treno regionale 10500, di Trenord, delle ore 6 e 18, proveniente da Mortara, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10502, di Trenord, delle ore 6 e 41, proveniente da Alessandria, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10517, di Trenord, delle ore 11 e 42, per Mortara, è in partenza dal binario 1. Ferma Milano San Cristoforo, Albairate, Abbiategrasso, Vigevano, Paruna Lomellina. Il treno regionale 10531, di Trenord, delle ore 17 e 08, per Alessandria, è in partenza dal binario 3. Ferma Milano San Cristoforo, Albairate, Vigevano, Paruna Lomellina, Mortara, Olevano, Valle Lomellina, Sartirana, Torre Beretti, Valenza, Valmadonna. Il treno regionale 10556, di Trenord, delle ore 21 e 18, proveniente da Mortara, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10560, di Trenord, delle ore 22 e 18, proveniente da Alessandria, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10557, di Trenord, delle ore 23 e 42, per Mortara, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni.